buongiorno come ho detto sul video precedente che era preferito al duma numero 7 adesso vi faccio vi faccio vedere il duma numero 8 del marzo 1990 che l'anno in cui sono andato giù io mia moglie e mio figlio gianni siamo andati in costa d'avore a trovare il cugino padre secondo vediamo se riusciamo ecco qui come dicevo mi metto ecco sempre a questo qui per ricordarci di cosa stiamo parlando duma questo è l'ultimo bollettino abbiamo fatto nel settembre 2019 sono monica francesco e questo è daniele orlando che sono quelli che proseguono da un po di tempo dal luglio 2019 proseguono loro le vicende portano avanti questo duma allora adesso questo qui lo togliamo lo togliamo ecco qua ecco qui qui c'è il no ma fa bene anche così va bene va bene ecco qua allora notiziario 8 marzo 1990 cosa si dice questo notiziario qua ci dice un titolo che abbiamo dato che ho dato quando ho fatto questo questo notiziario signore ci è molto vicino ti parliamo sempre anche di voi allora qui padre secondo che scrive di nuovo è qui allora carissimi amici tutti si legge un po si si legge abbastanza francesco e monica e gianni stanno per lasciarci ecco qui raccontali quando siamo andati giù e poi dopo sta per lasciare avrei voluto consegnare loro lettera per ognuno di voi che mi avete mi avete scritto o che mi avete fatto per venire un aiuto in questi ultimi mesi cercherò di scrivervi personalmente ma per ora accontentatevi ancora di questo scritto comune a tutti un grazie infinito e per tutti un breve resoconto di cose fatte di cose di come vanno le cose qui anzitutto 250 ragazzi sono a scuola ormai da sei mesi il debito è pagato con con le vostre generosità natalizia grazie a voi ho potuto intervenire in diversi casi almeno 20 di bambini molto malati eccetera eccetera attualmente un gruppo di adulti il gruppo di preghiera si sta impegnando leggete io adesso mollo un po qua in questi giorni sempre con la spinta ed il consiglio di francesco e monica è sorto un altro gruppo di quattro di quattro famiglie che ha il compito di cercare e vagliare i casi di bimbi in estrema necessità per proporli per l'adozione a distanza è un lavoro lento e difficile se non si vuole cadere nel favorittismo e magari aiutare chi non ne ha realmente bisogno e sì qui tutto va molto lentamente ma le cose avanzano comunque finalmente i lavori del dispensario dopo possono ripartire eccetera leggete diamo su a destra è di qua allora qui c'è pari secondi indica il luogo dove sarà costruito il dispensario e per adesso c'è solo una baracca è un prato un campo allora le due cooperative grazie ai due camioncini hanno fatto un buon lavoro quindi rispetto al rispetto al notiziario precedente che avete visto le cose sembra che in qualche me nell'arco di qualche mese vadano un po meglio eh quindi allora con l'arrivo di francesco e monica ho avuto il coraggio con loro di riprendere la vita in baraccopoli e il nuovo vescovo ci ha fatto una bellissima un bellissimo regalo è venuto a celebrare la sua prima messa dopo la consacrazione episcopale proprio nella nostra cappella baracca mi ha mi ha detto tu adesso resta sempre qui è troppo importante per questa gente per berebì e i villaggi troveremo altri per me è stata la conferma che signore mi vuole proprio lì ecco ecco qua il padre secondo il vescovo di san pedro che poi tra l'altro ha dovuto anche trovarci qua in italia eh Bartalemigia bla si chiamava nella baracca il padre secondo come vescovo ecco qui e qui c'è Gianni mio figlio piccolino aveva dieci anni ecco qua poi qua la lettera prosegue ve la faccio leggere perché è molto molto interessante eh io do solo qualche spunto ogni tanto i cristiani attorno a me sono pochi musulmani più numerosi ecco qua e finisce qua padre secondo anche questo fatto è un segno di dio cioè penso che sia quello di adesso dunque cos'è che ebbè una sera abbiamo organizzato un incontro con dieci giovani musulmani un incontro di semplice amicizia e conoscenza reciproca ho cercato di dimostrare il bene che voglio loro ed ho e uno di essi prima di partire ci ha detto ho sempre pensato che i cristiani ci disprezzassero ed anch'io per questo li disprezzavo da questa sera tutto è cambiato per me ecco anche per questo fatto e anche questo fatto è un segno di dio carissimi ogni mattino prego con coloro che mi stanno attorno nella piccola chiesetta di legno il signore c'è molto vicino gli parliamo sempre anche di voi vi porto lui vi porti lui il più bel grazie vostro padre secondo è qui ovviamente tu è bianco e nero comunque sì qui nella baracca nella baracca padre secondo già bla padre walter e qui c'è appunto il vescovo signore che vado a salutarlo eccetera e questa anche qui padre secondo con già nei bambini di dopo poi ancora qui una battesimi una villaggio è tutto fatto all'esterno ecco qua san pedro è diventata diocesi e c'è stata una grande festa qui noi siamo contenti di aver potuto partecipare che per combinazione in quel periodo in quei giorni li eravamo eravamo di giocci e san pedro è stata creata dal papa giovanni paolo secondo 4 novembre 1989 e poi è situato nel costo d'avorio a una superficie insomma grande una proporzione di 500 mila cinque centomila abitanti sì vi sono cinque parrocchie quattroici sacerdoti eccetera eccetera voi leggete monsignor martellini già brava a tutti lancio un appello è lui che aveva scritto questa cosa qua che tra l'altro era una vera persona l'abbiamo conosciuto molto bene qua c'è una nostra lettera ultime notizie scusiamo con tutti gli amici sostenitori padre secondo se questo numero esce con un po di ritardo causa problemi malattia ah sì avevo avuto è lì che sono ritornato ho avuto la malaria poi è stata bene bella sono ancora qua vivo quindi vuol dire che è stata de bella monica e francesco cantino quindi leggete con calma e poi bon finisce lì ah sì questa famosa foto dove ci sono tutti quelli che erano un po interessati al garimbo signor jabla il figlio gianni monica rosetta eccetera padre luigi rapetti santino e non mi ricordo aspetta un po qua ecco santino ragione bra 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 ecco antonio sì che era un volontario che è mancato tratto da poco poco tempo bene anche questa è fatta e quindi questo duma numero 8 l'abbiamo concluso e vi ringrazio per aver avuto la pazienza adesso piano piano siamo al numero 8 e beh ce ne ho 88 se vivo a sufficienza vuol dire che riuscirò a farli se no va bene rimane rimarranno fermi lì state in gamba e forse coraggio